buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog win allora oggi è martedì 22 ottobre e io insieme a Shobain stiamo andando ad Alessandria perché Sabrina deve fare la visita odontoiatica quindi per vedere se va tutto bene se si deve mettere l'apparecchio lo sappiamo già cioè che lo deve mettere ma se possono farlo loro eccetera eccetera così almeno vediamo un po' cosa ci dicono penso penso proprio che chiederanno una panoramica e ora non so se gliela faranno loro subito oppure magari se la dobbiamo fare a parte poi riandare e portargliela a vedere non lo so e quindi poi vi dirò tutto quando usciremo e niente quindi siccome la strada è un pochina io vi viaggiano poi dopo adesso mi concentro nella guida e ci aggiorniamo appunto più tardi grazie a tutti 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 grazie a tutti